Ciao a tutti, benvenuti su Paperless Prinks, io sono Martina e oggi andiamo a vedere insieme quali sono le novità di Notability con il nuovo aggiornamento. Parto con il ridirvi, perché ve l'ho già detto, che io avevo abbandonato Notability e quindi appunto l'ho abbandonata tipo proprio il giorno prima di questo, o due o tre giorni prima di questo aggiornamento, poi appunto nel gruppo Telegram insomma mi è stato fatto presente che c'era questo aggiornamento con una novità importante di cui tra poco vi parlerò e quindi ho detto vabbè riscarichiamola così almeno ve la posso mostrare. Dato che appunto l'ho appena aperta dopo averla riscaricata, in realtà l'avevo già aperta una volta, però appunto mi è apparsa adesso questa guida che guardiamo un attimo insieme così almeno cerchiamo di capire subito quali sono le novità perché io ancora non l'ho proprio guardata però volevo fare questo video giusto per spiegarvele, per farvele presenti così almeno le sapete e se poi vi interessa farò degli approfondimenti casomai, però non credo ci siano delle novità così sostanziali da richiedere degli approfondimenti. Comunque, una delle prime novità come vedete sono i divisori nidificati nel senso che l'organizzazione all'interno di Notability è diventata più semplice, meno male perché io non mi trovavo per niente bene ora si possono creare divisori all'interno dei divisori e anche creare argomenti con lo stesso nome, meno male perché io avevo tipo due argomenti di cui mi serviva lo stesso nome e Notability non me lo faceva fare perché non voleva due argomenti con lo stesso nome vabbè, lasciamo perdere andiamo avanti, adesso ci sono anche dei modelli già preimpostati che appunto vi possono servire per andare a creare delle nuove note ed infine si possono effettuare le azioni in blocco del gestore delle pagine meno male perché io per esempio volevo delle volte selezionare e spostare o cancellare una o più pagine ed era veramente fastidioso doverlo fare una per una cioè stanno aggiungendo delle cose che mi sembravano abbastanza basilari però vabbè, lasciamo perdere inizio dicendo qual è stato l'aggiornamento più importante introdotto in questi giorni da Notability Notability come sapete era un'app a pagamento costava credo intorno ai 10 euro sull'app store bene, è stata resa gratuita e fin qui uno dice perfetto, benissimo ma con l'abbonamento premium è una cosiddetta app freemium cioè app gratis con la possibilità di abbonamento premium io appunto già che non mi interessava l'applicazione ho detto non la riscarico nemmeno però poi ho scoperto che chi ha acquistato Notability prima del primo novembre del 2021 ha l'accesso a vita a tutte le funzioni esistenti e a qualsiasi contenuto già acquistato nell'app quindi per esempio se avevate acquistato degli stickers il riconoscimento della grafia insomma qualsiasi cosa abbiate acquistato sappiate che comunque ce l'avete a vita senza necessità di un abbonamento c'è solo l'abbonamento annuale e l'abbonamento annuale al momento è disponibile per leggo dal sito americano perché io non avendo già l'abbonamento attivo non posso vedere quali sono i prezzi in Italia comunque sono 12 dollari all'anno quindi non credo che cioè non è questa gran questa gran spesa però come sapete io la formula di app gratis con l'abbonamento non la tollero cioè o mi fai pagare un'app anche 40 euro però ho l'accesso a vita oppure l'abbonamento non è una formula che io tollero molto volentieri figuriamoci in un'app come Notability che mi potrebbe servire per appunti di corsi eccetera quindi assolutamente no però appunto oltre a questo questo aggiornamento importante di averla resa gratuita e di aver creato questo abbonamento annuale hanno anche introdotto delle piccole novità la schermata iniziale è un po' diversa perché come vedete io adesso non ho niente perché avevo tolto tutto ma come vedete adesso è stato introdotto questo pulsantino qua in basso per creare una nuova nota qua in basso a sinistra abbiamo le impostazioni infatti vedete che a me dice stato abbonato poi il tuo abbonamento gratuito scade il primo novembre 2022 ma sul sito non vi preoccupate perché c'è scritto che proprio sarà a vita per chi ha già acquistato quindi non vi preoccupate non dovrebbero esserci problemi e qui vabbè ci sono più o meno le stesse cose che c'erano prima c'è la conversione matematica c'è scritto abbonati perché io non l'avevo già acquistata quindi appunto queste sono più o meno le cose di prima mi è stato detto che forse era stato risolto il problema del rilevamento del palmo quindi il palme rejection no dopo vi faccio vedere un attimo che problema mi dà poi così ci capiamo meglio e queste sono le impostazioni qua ci sono le FAQ principalmente e qua ecco questo è il Notability Plus quindi quello che una volta era lo shop adesso si chiama Notability Plus queste sono le cose che ho acquistato e trovate come si trovavano una volta anche degli acquisti al di fuori dell'abbonamento che io dico già ho l'abbonamento se devo andare a comprare anche altre cose ah no però c'è scritto abbonati quindi forse si hanno proviamo un attimo se io metto abbonati cosa succede? ah vedete io ho il piano starter ecco e quindi comunque anche se avete acquistato avete il piano starter mentre se volete se anche avete acquistato Notability prima del primo novembre 2021 ma volete le funzioni premium dovete comunque fare l'abbonamento a 13 euro 12 euro e 50 ecco quindi questo è già per risolvere un piccolo problema allora come dicevo è stata introdotta la galleria per la prima volta si possono pubblicare dei lavori creati su Notability in questa galleria che è una nuova piattaforma accessibile all'interno di Notability adesso la andiamo a cercare perché non so dove sia e anche sul web dove si possono appunto condividere i nostri lavori allora probabilmente io non la trovo perché c'è scritto che potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'app durante il rollout ma lo sarà in futuro e comunque per adesso è disponibile per tutti sul web quindi basta che andiate sul sito di Notability e trovate anche la galleria poi c'è come avete visto prima una un'organizzazione più flessibile adesso è un pochino più facile creare dei divisori dentro ad altri divisori e anche dare come abbiamo visto prima lo stesso nome a più argomenti meno male era l'ora direi e adesso ecco questa è una cosa sono stati introdotti i template che va tenuto premuto per i template come vedete potete scansionare un documento oppure modelli avete qua le dimensioni quindi potete scegliere le dimensioni che preferite poi avete le classiche pagine di base come erano una volta qua sull'orientamento quindi bianco ok bianco così giallo nero azzurrino e poi ci sono le stesse pagine di prima oppure si possono anche creare delle pagine con dei colori nuovi mentre come vi dicevo ci sono poi adesso anche dei modelli quindi modelli istruzione modelli creativo e modelli pianificazione è molto carina l'agenda l'andiamo a vedere un attimo così appunto rimaniamo sempre un po' in tema digital planning vi faccio vedere se riesco ciò che il problema che mi da se io vado a visualizza pagina singola e metto lo zoom quando io vado a scrivere adesso ovviamente non me lo farà mai quando io vado a scrivere ecco infatti adesso non me lo fa ieri me lo faceva ve lo assicuro io praticamente facevo con sto cercando di vedere come faceva questa cosa ma non non la fa più vabbè io praticamente mentre scrivevo mi faceva questo lavoro qua ecco mi faceva questo lavoro qui e poi per andare a scrivere facevo fatica perché non si fermava la pagina adesso ovviamente non lo fa più speriamo che veramente l'abbiano risolto con l'aggiornamento ho dei dubbi perché come vi dicevo l'ho provata dopo l'aggiornamento ecco vedete anche adesso me la sposta ecco fa questo lavoro qui se io voglio iniziare a scrivere delle volte mi prende il tocco della mano come se volessi spostare la pagina però vabbè insomma non sarebbe cioè per me era diventato un problema e quindi mi sono spostata se l'hanno risolto non c'è più questo problema qua niente quindi queste erano un po' le novità di Notability nel senso era giusto per farvi capire di questa cosa che era stata resa gratuita e come funziona d'ora in poi se l'avete già acquistata o se la volete acquistare quindi ricapitolando se l'avete già acquistata avete già la versione non premium avete la versione starter compresa nel vostro nel vostro acquisto e la potete utilizzare a vita con delle limitazioni che invece la versione premium non ha come avete visto e la versione premium costa 12,50 euro all'anno che è un euro al mese però vabbè insomma io non so se ce li spenderei piuttosto investirei quei 10 euro che sono in GoodNotes o ancora meglio in Notesshelf perché c'è anche la registrazione vocale e basta userei quelle però appunto se l'avete già acquistata tanto vale continuare ad usarla potete usare tutte le stesse funzioni che avete usato proprio fino a oggi quindi non dovrebbe cambiarvi moltissimo io spero con questo video di aver fatto un po' di chiarezza in questa novità che è stata introdotta appunto da Notability in questi giorni così proprio come una bomba l'hanno lanciata come una bomba perché non si aspettava niente nessuno perlomeno io non me l'aspettavo tant'è come vi dicevo che l'avevo già cancellata però spero in questo modo di esservi risultata in qualche modo utile se così fosse lasciatemi un like iscrivetevi al canale tramite il pulsantino qua sotto o il tondino a fine video per non perdere i prossimi video vi consiglio di iscrivervi perché ci saranno a novembre altri video interessanti e poi a dicembre come sapete i fiocchi di creatività quindi questo video finisce qua noi ci vediamo martedì con un nuovo video ciao 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 ciao